Buongiorno ragazzi, come vi ho anticipato ieri, sono passato al volo, oggi c'è l'operatore e questi filmati andranno sul portale di Giovani Promesse, giustamente sarà visto da tanta gente perché qualcuno ha cominciato a fare qualche domanda a Gian Maria, ad Alberto, noi adesso faremo tutto quanto il percorso dopo tutto il percorso mi confronterò insieme ai miei collaboratori, a Primo, a Alberto, a Gian Maria e a Vincenzo che faranno delle considerazioni su di voi, che percorso prende e che cosa fa, capire chi, come, dove, mandarlo chi è pronto per fare certi percorsi o chi è ancora certo e deve fare altri passaggi per arrivare a un certo tipo di obiettivo ok ragazzi, qua c'è il signor Mario che è l'operatore, che oggi girerà, lo vedete in campo e mi raccomando, non facciamoci scappare parolacce, qualche sarà, ok, va bene ragazzi, comportiamoci menù del giorno, per un discorso televisivo, oggi faremo il classico riscaldamento che i mister faranno poi ci sarà del lavoro di trasmissione, di infezione, fase statica cosa vuol dire in fase statica? Non lo so, da fermo, bravissimo, e poi in fase dinamica lavoreremo su queste cose qua, poi dopo chiuderemo con una partitella perché serve a Mario per il quadrato nel pomeriggio saranno tutti i tornini, partitelle e queste cose, ok, va bene, sono stato chiaro? comportiamoci bene, mi raccomando, perché c'è l'operatore che fa le immagini, sarà qua, nei due campi adesso parte subito con i portieri, scusate il ritardo, ma purtroppo non è colpa nostra è una piccola incontrazione con il custode, non solo buon lavoro, un po' con l'un po', andiamo ragazzi ci dividiamo al solito, il gruppo di mister Berlindieri, dai vediamoci qui, dai vediamoci qui ragazzi, qui noi bravo, bravo 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 Deve andare a attaccare, la porto via, ce l'ho, ce l'ho, è uno spettacolo, questa qua me l'ha insegnata uno che si chiama Sormani, Sormani mi ha insegnato questa tua piazza del piede, adesso con la 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 piazza del piede, la parte alta, la metto giù e adesso con la piazza della confusione, via 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi dobbiamo fare meta entro quel clonetto e entro quella riga. Se andiamo da quel clonetto non possiamo fare meta. Ovviamente è da qua in poi che potrebbe fare meta. No, è da Cinesi. 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 No, è da Cinesi.